Uno dei murali che più mi hanno entusiasmato, anche per la sorpresa, è stato forse non il primo anno, il secondo o terzo anno, è uno dei primi comunque, che abbiamo fatto in via Caur 54, che è una casa di mio zio. In quel momento lì Pinocchio è in prigione e dopo averlo fatto finito, io mi sono ricordato, ne ho parlato con un amico Carlet, e ho detto ma guarda che qui abbiamo fatto Pinocchio in prigione e non abbiamo pensato che mio zio si occupa dei carcerati. Quindi abbiamo collegato qua, ma guarda un po'. E poi ho telefonato giù a mio zio, lui entusiasta è venuto a suo vedere e è ancora contentissimo adesso. Si trova in via Caur 54.